Grazie al professore Di Chiara, adesso è il momento delle conclusioni e passo la parola a Nina Amatore che ha un compito non facile, non prima avere però sottolineato questo invito alla leale collaborazione che è un bellissimo invito che vale per tutti, vale anche per gli istituzioni. Noi cerchiamo sempre delle risposte quando qualcosa non va, invece dovremmo cominciare ad abituarci alle domande. Io vedo spesso, con la professore Di Chiara, che quando si denuncia qualcosa che non funziona, chi vede qualcosa che non funziona si chiede di chi è la colpa e si mette alla ricerca. Forse dovremmo abituarci a farci tutti la domanda, quando qualcosa non funziona, che cosa possiamo fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Io penso che nell'ambito delle misure di prevenzione, che sono una storia molto lunga e complessa, in cui c'è un autore implicito, ma ci sono anche molti mistificatori espliciti. Questi autori impliciti che noi, essendo impliciti, non conosciamo, raccontano una storia nella quale, per esempio, quello che è accaduto in magistratura, ci sono due presidenti delle sezioni di misure di prevenzione che hanno una loro storia e che ce ne possono dare atto, in magistratura molto spesso, per fortuna, abbiamo visto colleghi farsi questa domanda. Ogni volta che qualcosa non andava bene, il tentativo di cercare di capire cosa si potesse fare di nuovo e di meglio. Ecco perché abbiamo creato un po' queste giurisprudenze a volte ardite, a volte innovative, a volte chi lo sa, anche sbagliate. Però, come dire, la domanda spesso giusta è stata fatta. Ora, speriamo, in questo momento, caro professore, dichiara che è un momento bellissimo, perché, veda, l'antimafia solitaria ed eroica di cui parlava Costantino Visconti, l'antimafia delle misure di prevenzione è stata solitaria, ma non eroica, non necessariamente, ma è stata solitaria, per scelta di tutti quelli che potevano venire e non sono venuti, per decenni. Adesso stiamo pienissimi di gente che ha voglia di entrare, ma molti di coloro i quali hanno voglia di entrare in questo mondo per fare antimafia hanno da proporre delle soluzioni. E noi siamo ancora fermi alle domande. Spesso questo ci crea dei problemi, perché noi vorremmo che qualcuno rispondesse alle domande che ci facciamo e le risposte che ci vengono proposte sono delle risposte ad altre domande, a domande che si sono fatti coloro i quali non hanno la più qualità idea di quello che succede nelle misure di prevenzione. E questo è un problema, è un problema, è un problema mediatico ed è un problema di leale collaborazione, è un problema di dialogo, perché io devo parlare con una persona che sta ad ascoltare quello che dico io. Io devo fare delle domande e vedere gente che vuole rispondere alle domande che io ho da fare. Se incontro persone che mi danno delle risposte, quando io quella domanda non l'ho fatta e ne ho fatta un'altra, si comincia ad inceppare l'ingranaggio. E questo è un problema. Non basta avere le risposte, dobbiamo partire dalle domande. Nino Amador. Grazie, buonasera, abbiate pazienza. Io ho ascoltato oggi, con molto interesse questa giornata, ma ovviamente sono un apprendista stregone, quindi io vi racconterò quello che ho capito, non pretendo di fare la sintesi. Però credo che sia, per me almeno, penso anche per voi, se siete qui, è stata una giornata molto utile, perché dopo settimane di polemiche, di notizie, di informazioni un po' astratte, e mi permetto di dire, spesso anche imprecise, mi sono fatto finalmente un'idea, diciamo, di quello che va e di quello che non va in questo settore, che è un settore molto specialistico, molto particolare, di cui tutti parlano pensando di sapere tutto, e che invece poi richiede una conoscenza e un approfondimento particolare. Io cercherò anche di ricordare quello che è stato detto stamattina in questa sala, perché, insomma, vi ripeto, cercando di raccontare quello che ho capito, visto che c'erano i premi Nobel delle misure di prevenzione e che dunque, insomma, bisogna avere un approccio molto dimesso di fronte ai premi Nobel. Ma in verità, per la stima che ho per i magistrati che c'erano, che hanno parlato stamattina, si tratta di eroi solitari che un tempo erano forse solitari e che nel tempo sono diventati anche non più solitari, ma che sacrificano spesso pezzi importanti, parti importanti della loro vita per fare questo lavoro, che è un lavoro molto rognoso, diciamoci la verità. Allora, stamattina è emerso con chiarezza un dato, io ragiono purtroppo in maniera molto così riduttiva da giornalista, ed è emerso un dato che, se volete, è un dato che non aveva bisogno di essere sottolineato, ma che purtroppo è ancora una volta molto chiaro. C'è l'inadeguatezza della nostra normativa, c'è del codice antimafia, c'è questo, come ha poi detto anche il professore Fiandaca, questa raccolta di norme che è stata organizzata, ma che per molti aspetti rimane ancora inadeguata rispetto soprattutto alla parte che riguarda la gestione. Poi parlerò anche della prevenzione negli aspetti della proposta cosiddetta Fiandaca. E così, anche in questo caso, questa è la mia impressione, quello che emerge è la necessità da parte dei magistrati, così come avviene in altri pezzi della nostra società, di organizzarsi, di trovare delle soluzioni, di cercare di trovare un equilibrio, un sistema che possa permettere loro di fare quello che è giusto, quello che è l'obiettivo, cioè il ripristino della legalità, perché poi tutte le altre discussioni, se vogliamo, tutte le altre questioni sono chiacchiere. E poi bisogna capire, nell'ambito di questa lealtà complessiva di cui parlava il professore, chi è in buona fede e chi in buona fede non è. Chi agisce con l'intento di tutelare l'interesse pubblico o l'interesse collettivo, e chi invece interviene per tutelare non solo a volte interessi particolari, ma a volte anche interessi particolari borderline e in altri casi ancora interessi particolari chiaramente schierati con l'illegalità, cioè per dirla in breve, a volte sembra che ci sia più interesse in qualche caso a tutelare i mafiosi che a tutelare i cittadini e il bene pubblico. Questa è una cosa importante, perché nel clima che si è venuto a creare, ora non ricorderò, anzi lo ricordo perché mi ha molto colpito quello che raccontava la dottoressa Saguto a proposito dell'avvocato che dice state massacrando l'economia e mi sembra di rileggere un libro sull'antimafia degli anni 70. E' una cosa che mi risulta incredibile. Quindi dicevo così, i magistrati, ma non solo i magistrati, i protagonisti di questo mondo sono costretti a organizzarsi, a trovare delle soluzioni. C'è qui Antonio Balsamo che stamattina faceva un discorso, un ragionamento che riguarda quello dell'organizzazione, del come affrontare, di che tipo di approccio avere rispetto a questo tipo di temi, che è quello di creare, se non ricordo male Antonio, correggimi, una rete di legalità che si contrapponga alle reti, di cui parlava anche Carmelo, e di cui si parla continuamente alle reti criminali. Questo perché? Perché sul piano delle misure, lo ha dimostrato l'intervento del magistrato di Roma, del giudice di Roma, sul piano dell'intervento quando si vuole, perché anche questa è una questione, secondo me, di rimente, come direbbe Costantino Visconti, quando si vuole si può intervenire, cioè si interviene e di colpo le misure di prevenzione da 10 diventano 76. Insomma c'è un'accelerazione che in qualche modo fa riflettere, uno si chiede da cittadino, da apprendista stregone come me, ma com'è possibile che da 10 in un anno si sia passati a 76? C'è qualcosa che non funziona, non funzionava prima evidentemente. Allora, tutto questo, mi piace quest'idea, mi piace secondo me anche molto positiva, della sperimentazione fatta a Milano e di quello che poi sarà fatto a Roma, e di quello che poi diceva anche Antonio, di allargare, cioè una sorta di nuovo patto antimafia in cui i protagonisti, diciamo l'economia, gli ordini, cioè tutti i protagonisti di questo mondo stiano insieme a supportare, a far emergere le criticità e a risolverle, non una sorta di camera delle corporazioni, come si potrebbe pensare, ma una cosa un po' più semplice e se volete anche abbastanza immediata, che chiama in causa i veri protagonisti, cioè perché a quel punto si vede chi sta da una parte e chi sta dall'altra parte, perché in questo momento noi abbiamo questo tipo di esigenza, in questo momento abbiamo questo tipo di esigenza perché? Perché ce lo dice la dottoressa Merola, perché le mafie, ce lo dice lei ma ce lo dice anche il professore, cioè nel senso che mentre noi stiamo ragionando, stiamo minando alla base il principio di lealtà complessiva che dovrebbe essere la base di un paese come il nostro, civile e democratico, mentre discutiamo e creiamo contrapposizioni, le mafie si sono già organizzate e con la velocità che le contraddistingue sono già andate avanti, hanno creato i trust, hanno creato sistemi di riciclaggio nuovi e purtroppo devo prendere atto, perché la prima volta l'ho letto, la seconda l'ho sentito, la terza l'ho risentito, i magistrati non sono attrezzati a capire che cosa, i magistrati che dovrebbero indagare su questo non hanno capito, non capiscono cosa sta succedendo, cioè come le mafie si sono trasformate, sono diventate altro e si propongono con i colletti bianchi e con un certo tipo di vestito e alla base c'è il veleno, c'è il denaro raccolto con il crimine. La questione della riforma dei mercati, ora a me sembra, da quello che diceva Pitruzzella, non ho ragione di non credere, che gli strumenti su alcuni aspetti ci siano, cioè di fronte a una presenza, come ha argomentato il professore Purpura, che con quei numeri ha in qualche modo fatto una fotografia precisa di quello che accade, numeri che nei rapporti che ha creato lui, cioè con quelle considerazioni non esistono in giro. Noi abbiamo così plasticamente l'idea di come e dove i cartelli criminali, le reti criminali hanno operato e continuano a operare, in quali settori, quali sono i settori di maggiore interesse. Io mi ricordo qualche anno fa, ho scritto un pezzo per il mio giornale, in cui avendo ricostruito cinque o sei casi di commissariamenti in alcuni settori, si è capito che praticamente il settore dei calcestruzzi è per il 90% nelle mani dello Stato, cioè ormai un monopolio di fatto, se vogliamo dirla così. Allora, e poi tante altre questioni, e dunque bisogna intervenire, come bisogna intervenire? L'apertura agli imprenditori è importante, l'apertura alle imprese è importante, ma non un'apertura così, purché sia, perché poi a un certo punto diventa anche abbastanza semplice, con i meccanismi di ripulitura, presentare un soggetto che apparentemente è pulito, ma sostanzialmente alle spalle non si capisce bene che cosa, perché il punto sulla globalizzazione delle mafie non è una questione così quasi da libro giallo, da spiaggia, insomma, da approfondimento leggero, cioè è una questione reale che si pone nei termini di riorganizzazione finanziaria del nostro mondo, del mondo occidentale, non solo, ma anche di intervento mirato che alcune organizzazioni criminali fanno, e in alcuni settori che apparentemente sembrano lontani dai loro interessi, ma che poi alla fine risultano anche abbastanza vicini, perché mi consente al professore Purpora, se anche un trust investe e compra delle azioni di un'azienda ad altissimo valore aggiunto, per esempio può essere un'azienda della tecnologia o delle telecomunicazioni, in quel momento il trust interviene e mettendoci soldi comanda, per cui se per esempio domani il trust interviene in un'azienda che si occupa di comunicazione, quindi di informazione, interviene in un settore che è un settore chiave, strategico per un paese democratico. Ecco il ruolo che poi diciamo quello della cultura del contrasto alle mafie extrapenale, così possiamo definirlo in questo modo, che si è andato affermando negli ultimi anni con l'impegno diretto da parte delle associazioni Confindustria Sicilia, noi siamo qua ospiti di Confindustria, Montante, Lobello, che hanno avviato un lavoro che poi si è diffuso nella Confindustria nazionale, Giuliana Merola ricordava che uno dei partner del protocollo che hanno fatto a Milano è Assolombarda e non è un caso che Assolombarda. Poi ho notato una cosa un po' strana, per cui al nord c'è una maggiore propensione da parte delle associazioni a collaborare con magistrati, ma c'è una bassa propensione degli imprenditori a denunciare, perché è anche vero che nei vari processi di Indrangheta che ci sono stati, molti imprenditori non associati evidentemente, perché altrimenti li avrebbero cacciati a Confindustria, hanno negato di aver mai pagato il pizzo, di aver mai avuto rapporti con l'Andrangheta e così via. Resta chiaro, poi qui chiudo, non vi voglio tediare a lungo, resta chiaro, non l'ho trascurato, non ho lasciato alla fine questi aspetti così a caso, allora l'intervento dell'antitrust, l'intervento dell'antitrust, come diceva il professore Pietruzzella, è fondamentale, sarebbe utile se l'antitrust potesse intervenire nella famosa questione dei cartelli locali che noi abbiamo, perché il punto, le turbative d'asta, la corruzione, cioè tutta una serie di questioni sono nate qui e sono nate con questo sistema, io, tu e lui ci mettiamo d'accordo, tu lavori lì, io lavoro lì e tu lavori dall'altra parte, questo è il tavolino di Sino, che cos'è il tavolino? Il tavolino è che invece di deciderlo tu lo abbiamo deciso noi e ci dà il 3%, questa è la questione, siamo proprio sicuri, lo dico così come domanda, ma forse diciamo una risposta c'è, che questo tavolino non esista più, cioè che non c'è, oppure questo tavolino non esiste più in alcuni settori ed è stato trasferito in altri, l'eolico? Boh, non lo so, lo dico perché qui il dottore è un esperto della materia, cioè è una questione su cui secondo me bisogna ragionare, gli strumenti che abbiamo in questo momento visto anche la carenza culturale sono adeguati e anche su questo diciamo bisognerebbe un po' ragionare. Vado al punto della proposta della commissione fiandaca che secondo me è diciamo la vera grande novità in questo momento sul piano delle proposte di riforma, perché la vera non lo dico perché io a giurisprudenza non ne devo fare mio figlio ha sette anni quindi diciamo sgombriamo il campo e lo iscrivo a Malta così evitiamo di allora la questione è quella che noi in questo momento in questa giornata ci siamo occupati e ci occupiamo costantemente del malato cioè ci occupiamo del malato c'è il cancro prendiamo un medico e proviamo a curare questa malattia proviamo ma ci sono molti casi in cui prima che la malattia degeneri il malato si può curare cioè si può si può togliere il neo che poi magari diventa altro cioè si può intervenire per tempo è possibile farlo e credo che la riforma con gli interventi di cui parlava prima Costantino di cui ha parlato il di cui ha parlato il professore siano gli interventi sono gli interventi giusti sia sul piano dell'amministrazione perché il 34 bis come l'hanno battezzato loro permette in qualche modo di chiarire prima cioè di ripulire un'azienda e di lasciarla sul mercato senza doversi poi porre il problema se questa azienda va venduta va affidata cosa se ne deve fare e il problema dell'interdittiva che secondo me diciamo ma io sono ripeto insomma provo a studiare non so se ci riesco risolve il problema di alcune aziende che nella condizione data si sono trovati ad avere rapporti con la criminalità organizzata ma diciamo che ne avrebbero fatto a meno la dottoressa Merola ha ricordato l'episodio dell'ESPO io ho scritto un'inchiesta nel 2008 cioè un po' prima che è un imprenditore e mi ha raccontato che si erano già comprati tutte le aree in cui poi sarebbero stati fatti lavori cioè cosa nostra l'andrangata le mafie si organizzano per tempo per tempo perché perché come diceva Becucci hanno le conoscenze le reti hanno costruito un meccanismo un'organizzazione tale che gli permette di intercettare i flussi e investire laddove poi ci sono profitti molto alti in settori le costruzioni sono tra questi credo che credo di aver detto quasi tutto non ho dimenticato forse dimenticato poche cose una questione secondo me importante che va sottolineata in questo principio di lealtà è quella sollevata dalla dottoressa Saguto cioè che l'apertura intanto l'obiettivo è quello di ripristinare la legalità poi non è la dottoressa che dice che le aziende non stanno sul mercato e vanno chiuse le ha dette l'economista cioè non non è lei che si è in me per cui questo rapporto diciamo questo rapporto di leale collaborazione col sindacato credo che sia utile perché il sindacato se torna alla grande funzione sociale che ha avuto storicamente è quello sì di tutelare i lavoratori ma di tutelare i lavoratori che vengono pagati non quelli che vengono derubati costantemente dalla mafia perché il punto in questa città in questa regione che spesso si dimentica è esattamente questo cioè tutelare un lavoratore che prima firmava una busta paga prendendo un terzo di quello che era il suo stipendio e quindi la questione è chiaro che poi quando arriva lo Stato è facile portare avanti delle rivendicazioni ma bisogna trovare la soluzione per salvare il reddito delle persone ma anche per non massacrare l'economia di tutti perché poi il danno lo paghiamo complessivamente tutti noi grazie penso che siamo soddisfatti di questa giornata che c'è Costantino che forse vuole intervenire di nuovo ma non lo facciamo intervenire ringraziamo Confindustria Sicilia che ci ha ospitato Confindustria Giovane il dottore Tutone che ha organizzato generosamente tutta questa giornata ringraziamo l'ordine dei commercialisti e l'ordine degli avvocati che hanno partecipato ringraziamo gli studenti di Workshop AG che si sono impegnati moltissimo in un'attività silenziosa che non avete visto che è quella di studiare non lo fanno in tanti qua in Italia quindi io penso che questa cosa va sottolineata perché di solito c'è gente che parla ma non studia e questi hanno studiato e non hanno parlato quindi meritano ringraziamo anche Nino Amatore per la conclusione e io vorrei chiudere dicendogli che lui poneva il problema del tavolino ma il tavolino di ieri esiste più purtroppo e ci salutiamo così noi abbiamo indizi che le falegnamerie producano molto anche tutt'oggi grazie